Un amichevole per stemperare gli animi, una partita per lasciarsi dietro le scorie di un campionato che ha visto Virtus Avellino e Declanese fronteggiarsi per la vittoria finale. E questa è l'idea del tecnico dei Mirabelliani Alessio Martino. L'allenatore dei gialloblu ha contattato il trainer virtusino Rino Crescitiello con l'intento di stemperare gli animi e mettere definitivamente nel dimenticatoio ogni polemica. L'ex allenatore della Virtus, Goti, vuole approfittare della sosta del campionato per disputare una sorta di match dell'amicizia. Attenzione a Ruggiero che calcia in porta! Il vantaggio dell'Eclanese al minuto 19 realizzato da Gennaro Ruggiero, pericolo pubblico numero 1. Mette un gran pallone dentro per Torsiello! Torsiello al minuto 4 di gioco! Virtus Avellino 2, Eclanese 1. Eccolo! Vincenzo Torsiello! Una sfida tra le due formazioni che hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre contendenti. Soprattutto all'HD a terza super favorita alla vittoria finale del Girono C. 70 punti per la Virtus, 61 per l'Eclanese con i ragazzi di Crescitiello che hanno fatto proprio la differenza nel doppio scontro diretto. Attenzione! Ripoli! 1-0 e 3-2 le vittorie virtusine. La sfida si dovrebbe giocare tra mercoledì e giovedì prossimo. La sfida si dovrebbe giocare tra mercoledì e giovedì. La sfida si dovrebbe giocare tra mercoledì e giovedì.